Ceremonia in sala giunta questa mattina con i 12 atleti napoletani e campani premiati nelle varie discipline all'Università di Napoli da poco conclusa. Per loro il riconoscimento della città ha consegnato dal sindaco Luigi De Magistris con l'assessore allo sport Ciro Borriello. Hanno vinto queste ragazze e questi ragazzi che sono stati straordinari, ha vinto Napoli, ha vinto l'orgoglio della città, la competenza, la passione, la capacità di fare squadra, l'economia circolare, il turismo, molto l'immagine di Napoli. I ragazzi di tutto il mondo hanno fatto foto di Napoli straordinarie che stanno facendo il giro del mondo, quindi un bel successo, adesso bisogna andare avanti così.